bene amici siamo nel cuore pulsante della nostra barca con me c'è luca ciao carlo buongiorno a tutti di cosa ci occupiamo oggi allora a seguito della verniciatura della sentina da parte sua abbiamo riscontrato alcune perdite d'olio da parte del motore sinistro adesso quindi approfondiremo diciamo cercheremo la causa dell'origine di questa perdita per poi cercare anche di risolverla e questo diciamo il motivo principale per cui noi abbiamo riverniciato la sentina è uno dei vari motivi oltre al senso estetico e riuscire a individuare tracce perdite e comunque colature e risalire soprattutto alla causa esatto esatto non è un lavoro propriamente da dilettanti ho chiesto prima un po' istruzioni a chi di dovere per verificare un po' così possiamo effettivamente approcciarci a questo problema e cercare di risolverlo senza fare ulteriori danni certo anche perché diamo un po' di informazioni a chi lo volesse sapere che motori montiamo noi sono due fiat tifo 80 61 sono sei cilindri motori vecchia scuola puramente meccanici ognuno eroga 240 cavalli linea d'asse giri massimi 2700 quindi motore a regimazione lenta relativamente lenta questo lo vedremo magari durante il test quando provare a mare e niente affacciamoci e vediamo dove perde perfetto quindi procediamo ci spostiamo un po' perché dobbiamo riassettare e cerchiamo di risalire alla causa tanto per cambiare sarà un lavoro bello comodo certo perché diciamo stare sui motori è un po' scomodo adesso andiamo a identificare questa perdita carlo mostriamo il vantaggio di averla sentina punita ci mostra chiaramente questa copiosa perdita d'olio andiamo qua quindi noi da qui siamo andati a risalire a monte la cosa difficile sui motori marini è cercare da dove perde perché il motore automobilistico di solito è più semplice di solito non sempre identificare la perdita perché cade esattamente al di sotto del punto in cui gocciola invece il motore entra a bordo dato che inclinato la goccia comincia a perdere da una in una zona e poi dato che a causa dell'inclinazione passa su altre parti del motore e cade a terra particolare anche quando siamo in navigazione in questo caso siamo a terra ma anche in navigazione durante la planata c'è un'inclinazione e tutto va verso poppa quindi carlo guarda la riesci a vedere credo che si riesca a vedere allora l'acqua l'olio cade lì perché prima è pulito dopo è sporco ovviamente la chiazza grossa d'olio è qui ma questa è una zona in cui non c'è nessun passaggio pertanto è solo la coppa dell'olio lo sta nel lato superiore pertanto non può perdere da qui continuiamo a seguire la traccia il supporto la staffa che poggia sui supporti motore il guante è sporco e quindi guarda è proprio qui sotto la pompa iniezione continuiamo a salire perché non è non si vede cioè si vede che la pompa è ancora sporca pure qua eccola qua la marchia la marchia è persistente della perdita esattamente qui sotto guardi guardate come abbondante calave di olio vivo fresco quindi è qui la perdita perfetto ok non ci resta che smontare il particolare vedere se c'è la guarnizione che è danneggiata ok invitiamo attenzione questo è un carter che copre un cursore all'interno della pompa iniezione la pompa iniezione è un motore nel motore pertanto auguriamoci di trovare solo qui il problema altrimenti dovrò smontare tutto il complessivo e portarlo da uno specialista svitiamo ovviamente insomma operazioni proprio comodissime perché soprattutto ragazzi un po di basi meccaniche ce l'abbiamo e quindi ecco qua aspetta 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 si vede bene la perdita perfetto benissimo appoggiamo qui eccola qua quindi questo è la nostra amica signori per una sciocchezza del genere ecco qui perfetto va sostituita perché vecchia ormai non ottiene più benissimo quindi adesso andiamo a sostituirla rimontarla mettiamo in moto e vediamo se perde esattamente perfetto e quindi cari amici per una fesseria del genere perché quanto costa costa da 20 centesimi anche perché un motore industriale terrestre piuttosto comune diciamo che abbiamo rischiato ma noi niente perché avevamo sempre i liquidi sotto controllo non è mai sceso il livello dell'olio anche perché la perdita per quanto può sembrare grossa non si tratta di litri e litri che vanno in sentina però una disattenzione può provocare per apportare veramente all'ortura del motore e quindi con conseguenze molto gravi e molto costoso chiaro quindi il messaggio è appunto monitorate ogni tanto con una certa frequenza una cadenza periodica già programmata magari date un'occhiata ai vari livelli del motore come facciamo noi allora non dico una volta a settimana ma quasi e poi soprattutto prima e dopo un lungo viaggio fermatevi la sera in porto fate raffreddare la sala macchina e controllate almeno il livello dell'olio motore soprattutto in qualora abbiate acquistato da poco la barca non conosciuto ancora il mezzo è importante c'è una fase di confidenza che cercare confidenza per fidarsi poi del mezzo soprattutto su lunghe tragiche e soprattutto su barche un po più vecchiotte come la nostra che ormai i suoi 30 anni ce li ha anche se i motori li abbiamo sostituiti questa è un'altra storia un'altra storia che vedremo in un'altra puntata un giorno vi narreremo ci metteremo comodi in pozzetto e vi spiegheremo tutti i lavori che abbiamo fatto in pozzetto sarà una 24 ore di racconti praticamente super giusto magari lo facciamo in diretta poi lo vedremo quindi noi ci troveremo a monitorare periodicamente faremo anche un check up del motore completo in modo tale da evitare ogni problema prima di andare in acqua però questo non glielo possiamo dire quindi cosa devono fare per saperlo iscriversi al tuo canale iscriversi al canale youtube alla pagina facebook e attivare la campanella degli avvisi perché io non vi dirò mai sul mio profilo instagram saprete quando registriamo un video qualche retroscena qualche feedback in particolare però dovete per forza iscrivervi per sapere tutto per ora abbiamo concluso si ci procuriamo il ricambio e lo montiamo perfetto alla prossima arrivederci